Filippo Lupci, un'esperienza quasi unica, quella di un viaggio negli ultimi tre anni in Burundi per conoscere una realtà diversa, una realtà anche difficile e da questo viaggio è uscito fuori un libro, Burundi. Sì, un libro molto particolare di immagini e di storie che abbiamo raccontato, abbiamo vissuto in qualche modo con una missione tutta abruzzese, molti abruzzesi sono impegnati in questo paese della regione dei Grandi Lageri, nel cuore proprio dell'Africa, grande povertà ma anche la ricchezza di una popolazione che vuole reagire, sta reagendo, è una popolazione accogliente che vuole ripartire proprio dalla terra per dare un contributo di crescita, di sviluppo e anche di cultura se vogliamo alla propria gente, alla propria popolazione. Gli abruzzesi stanno aiutando lì quel popolo e questo è il valore aggiunto secondo me del volontariato che va raccontato, va trasmesso, è contagioso, si può fare volontariato in qualsiasi posto della terra, soprattutto in questo momento anche nel nostro paese, però lo scambio culturale per un giornalista è un valore aggiunto. Questo libro viene anche raccontata la storia di una ragazza. Sì, una storia di una ragazza che ce l'ha fatta, che a tutti i costi ha voluto studiare, ha raccolto un euro in tre anni per comprarsi delle scarpe, un quaderno, un libro e è andata a scuola. Oggi è una studentessa dell'Università di Teramo che vuole completare gli studi in biotecnologie alimentari e tornare nel proprio paese ad aiutare quella popolazione. Ecco, noi questo possiamo fare come Italia, come cittadini, aiutare questa gente a tornare nel proprio paese a fare bene. Noi siamo un paese di immigrati, gli italiani hanno conquistato il mondo, hanno avuto le opportunità del caso in tanti paesi fuori dall'Italia, noi dobbiamo dare le stesse opportunità a queste persone cercando di non accogliere tutti a tutti i costi perché oggi non ce lo possiamo permettere.